teledurruti praga piazza venceslao cos'è questo luogo nella memoria di chi non c'è mai stato nient'altro che bianco e nero televisivo anzi da telegiornale primavera 1900 meglio agosto 1968 i carri armati sovietici del cosiddetto patto di varsavia qui in questa piazza i ragazzi di praga che inveiscono contro i soldati sovietici volti da tartari da osbechi spediti qui poi un ragazzo che si da fuoco come come i bonzi che la stessa cosa avevano fatto in vietnam non c'era allora mcdonald e neanche starbucks che no Venceslao, nuvola, Vescovo. Sfondo, carri armati, telegiornale. Praga, Venceslao, ragazza, Praga, 2018, 50 anni dopo. Sfondo, 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 ragazza, Praga, 2018, 50 anni dopo.